Buonasera cari amici benvenuti a questa puntata di dopo cena ritorniamo al martedì sera come sempre per un'altra puntata che parla di salute della nostra salute e di come un territorio e una farmacia presente nel territorio da tanti anni può essere così incisiva su quelle che sono le possibilità di un cittadino di un utente di andare verso la strada migliore per il suo percorso di salute. Già li conoscete sono stati già sulle nostre onde insomma in altri momenti abbiamo registrato un po di avvenimenti presso di loro e poi sono tornati naturalmente immancavilmente come non si può non passare dai divani dopo cena e quindi sono voluti essere presenti anche qui sono insomma tutto lo staff della farmacia scarponi di san costanzo allora li presentiamo tutti accanto a me c'è e poi sarà scarponi la titolare insomma l'ultima l'ultima generazione di farmacisti della tua longeva famiglia dopo faremo anche un breve scursus del percorso della tua famiglia dentro la città di san costanzo accanto a lei è beatrice brunetti collaboratrice farmacista e alla punta estrema del divano francesca longhi che anche lei come la sua collega beatrice è farmacista e collaboratrice della farmacia allora gianluca per comodità e non per cavalleria perché dovrei iniziare dalle signore tu lo sai ecco parto parto da te parto da te per prima dovere poi il piacere naturalmente allora giusto perché vogliamo comunicare un giusto messaggio un corretto un corretto input ai telespettatori la prevenzione per voi sta diventando un pallino fisso un chiodo fisso sì di fatto la il nostro modo di aiutare la nostra clientela nel migliore maniera possibile perché la la prevenzione oggi come oggi e sono chiacchiere che sentiamo ormai abbastanza spesso un po tanti telegiornali anche il vostro è notizia quotidiana prevenire sempre meglio che curare non è solo un detto nel nostro caso specifico vivendo noi a stretto contatto con anche la burocrazia della sanità italiana e tutte le difficoltà del caso perché ovviamente come presidio medico sul territorio sentiamo anche le lamentele di tutti quelli che vengono in farmacia e perché hanno problemi a volte ad accedere alla terapia la diagnosi il medico lo specialista devo andare qui devo andare là devo accorso le varie difficoltà che tutti conosciamo e vabbè provincia e abbiamo delle altre sulle quali non entriamo adesso conosciamo oggi più che mai conviene veramente non ammalarsi può sembrare un detto facile di noi accetterebbe questa condizione il problema è che spesso molti sono concordi con questa affermazione però di fatto vediamo molti pochi realmente mettono in atto quello che servirebbe per prevenire non diciamo io ho preparato qualcosina giusto così per far vedere anche un aspetto che molti non tengono in considerazione c'è il vantaggio della prevenzione non è solo un vantaggio in termini di salute è anche un vantaggio in termini economici economici personali l'economia personale della persona che previene che quindi non sa male ma anche della società perché la prevenzione porta dei risparmi economici importanti se è possibile vedere il primo grafico che avevo preparato diciamo vediamo che si parte ecco diciamo lo stato normale quella che è un po lo stato di salute noi diciamo quando stiamo bene dal di qui abbiamo un disturbo primi sintomi normalmente insomma prima di arrivare alla vera e propria malattia o patologia abbiamo delle avvisaglie c'è qualcosa che ci aiuta a capire ecco spesso alcune molte persone qui non non leggono bene questa cosa oppure diciamo tralasciano lasciano correre un po tutto il il decorso arrivano poi la malattia a quel punto quando c'è la malattia se non è ben curata e qui entrano le problematiche tipiche della della sanità di diagnosi piuttosto che altro l'accesso ai servizi diagnostici in tempi utili o comunque rimborsati piuttosto che dove andare a pagamento ci sono le solite problematiche che non conosciamo è abbastanza facile capire che anche qui se continuiamo a lasciar perdere a non curare a non seguire a non svolgere la terapia in maniera corretta o essere anche aderenti alla terapia qui ci sarebbe da fare un altro discorso ma magari lo vediamo un'altra volta con calma perché è un capitolo a parte si può arrivare a patologia cronica o nei casi assolutamente peggiori invalidità temporanea e permanente detto questo se noi ritorniamo all'ambito che invece interessa a noi sul quale vogliamo soffermarci cioè prevenire prevenire significa o fare laddove possibile dei test per valutare eventuali predisposizioni genetiche ad alcune patologie e noi ne abbiamo alcuni sono quelli del dna che abbiamo già visto nelle puntate fatte l'anno scorso oppure comunque prima di arrivare alla malattia importante alla malattia cronica cominciare magari a seguire un percorso ovviamente sempre collaborazione col medico che deve essere il primo aiutare in questo senso ma soprattutto anche a permettere questo cambio di mentalità perché mi rendo conto che è una mentalità abbastanza radicata quella insomma che ancora impedisce di riuscire a fare questo passettino in avanti fare questo tipo di corso permette di impedire di arrivare alla malattia o alla patologia cronica o alle invalidità i costi di cui parlavo prima li ho ripilogati nei prossimi tre grafici sono molto facili da seguire e da capire abbiamo prima un costo economico a carico della società perché quando una persona ha una malattia che va comunque seguita abbiamo dei costi di ospedalizzazione quindi degenza, assistenza per notte eccetera dei costi di diagnosi, casi particolari, l'invio della croce rossa, interventi chirurgici, spesa farmaceutica, visite specialistiche questi sono tutti i costi che il servizio sanitario bene o male passa detto così in maniera abbastanza folgare quindi è un costo per la società poi abbiamo dei costi invece singoli della singola persona perché giustamente quando una persona è malata perde giornate di lavoro di studio, ha difficoltà nel servizio sanitario ad essere efficace tipologie, spese mediche supplementari a volte non rimborsate dal servizio sanitario nazionale idem, terapti, farmaci e ovviamente in alcuni casi particolari dovessi rivolgere eventualmente altri click e questi sono costi tipici della singola persona poi abbiamo dei costi futuri, dei rischi che riguardano il contagio quindi eventualmente riportare la malattia ad altre persone della famiglia il rischio di diventare una malattia cronica quindi diventa un costo che diventa vita naturale durante sia per la persona che per la società ovviamente ricidive, ricadute, effetti collaterali causati da terapie purtroppo i farmaci si sa hanno effetti collaterali e anche questi bisognerebbe tenerli un attimino conto quando si va a valutare la terapia naturale piuttosto che una terapia farmacologica ovviamente quindi questo poi porta al deterioramento della stessa qualità della vita ovviamente quindi anche validità temporanea o permanente questo un po' per cercare così di essere il più sintetico possibile cioè prevenire invece che curare conviene anche economicamente quindi c'è un risvolto oltre che pratico anche sociale anche di comunità e oltre che di impatto sulla propria famiglia sul proprio status familiare ma dopo entreremo ancora più nello specifico per capire gli strumenti che voi proponete per combattere questo aspetto però voglio coinvolgere Sara che naturalmente ha vissuto ha respirato nella propria famiglia insomma 110 anni di storia festeggiato quest'anno ad agosto con la famosa tavolata tavolata siamo diventati una tavolata lunga a 110 metri 110 metri che simboleggiavano il percorso della tua famiglia quindi dal 1906 bisnonno il bisnonno bisnonno un alchimista praticamente un faceva proprio siamo nati così come farmacia la farmacia era nata proprio per curare la malattia perché poi una volta era l'unico lo speziale insomma si faceva proprio la la medicina in casa cioè il lavoratorio una volta sì che si produceva e noi siamo partiti da questa forte base tradizionale abbiamo cercato poi di evolverci di puntare come diceva appunto mio marito su quella che è la prevenzione prevenzione che aiuta più a mantenersi in salute mantenersi sani perché è più facile piuttosto che poi arrivare a curarci e per fare questo puntiamo su diversi aspetti insomma perché poi adesso viene adesso bisogna essere nel vivo del nostro del nostro lavoro perché noi comunque per fare questo per essere sempre preparati per essere sempre pronti dedichiamo anche il nostro tempo ad aggiornarci a studiare non è che abbiamo preso la laurea e finito tutto lì noi siamo in continuo aggiornamento a cercare sempre di proporre prodotti e servizi che siano al passo coi tempi e sempre innovativi quindi insomma la vostra è come sempre viene in ambito medico una missione oltre ad essere una missione di famiglia è anche una missione così di voler essere come dire sempre un punto di riferimento per la comunità come lo sono stati i tuoi genitori i tuoi nonni ma questo lo facciamo cioè nel senso da una parte sono io ma anche ho delle varie collaboratrici che ti supportano diciamo che la nostra è una bella squadra riusciamo sempre a lavorare bene in sinergia insieme insomma quali sono gli strumenti che avete messo in campo per attuare questa evoluzione chiaramente questa nuova farmacia 2.0 insomma tanto per dare una connotazione tanto di moda in sto periodo da una parte appunto la ricerca di prodotti che possono essere sempre nuovi con principi attivi validi e anche con un costo contenuto poi perché è sempre anche una questione di costi curarsi costa ma anche prevenire a un certo a un certo costo quindi nella nostra ricerca di prodotti che possono funzionare c'è anche la ricerca di quello che può essere la qualità migliore al costo più conveniente e su questo studiamo andiamo anche io e mio marito andiamo in giro proprio a a visitare è capitato anche la settimana scorsa che siamo andati in un laboratorio a cui ci siamo affidati poi scusa sono tutte buone per stare in giro ecco quindi va bene dopo dopo la vista del laboratorio il pranzo il pranzo la domenica passa così va bene c'è chi va per fiere c'è chi va per laboratorio ognuno ha il suo ambito anche comunque scherzi a parte in questa ricerca avete profuso sempre grande grande energia grande interesse e per trovare il giusto bilanciamento tra insomma il costo e il beneficio in questo si inquadra anche un po' la vostra adesione al consorzio se ho ben capito sì noi siamo entrati a far parte di un consorzio di farmacie le quali hanno investito creando un laboratorio ad hoc per lo sviluppo di tutta una serie di integratori di prodotti praticamente tutti di origine fitoterapica naturale per risolvere buona parte di quelle sono le problematiche di cui parlavamo prima nella fase iniziale cioè quindi il disturbo o i primi sintomi è ovvio che non è una casa farmaceutica che quindi produce farmaci però partendo dal presupposto come dicevamo prima che i farmaci purtroppo tendono ad avere comunque tutta una serie di effetti collaterali che in qualche maniera è come avere altri disturbi altri sintomi però ovviamente non se ne può fare a meno quindi partendo da questo presupposto questa linea di prodotti e oggi il catalogo ne annovera credo più di 250 poi c'è addirittura anche altri prodotti legati a creme pomatte eccetera addirittura anche cosmesi geni eccetera al di là di questo rimanendo sull'integratore questi aiutano in alcuni casi a ridurre i primi sintomi e quindi magari a prendere in tempo il disturbo prima che diventi una vera e propria patologia una vera e propria malattia e quindi in maniera naturale lo riusciamo a risolvere in altri casi laddove non è possibile fare diversamente aiutano a ridurre ma almeno in maniera naturale senza dover prendere un altro farmaco aiutano a ridurre gli effetti collaterali dei farmaci esempio diciamo un farmaco per una patologia cronica che affligge molte delle persone in Italia è per esempio il discorso sul colesterolo che ha problematiche di questo genere è costretto a prendere delle statine spesso le statine hanno l'effetto collaterale di causare crampi dolori muscolari e cose del genere è ovvio che se uno deve prendere un altro farmaco per eliminare l'effetto collaterale del farmaco entra in un circolo vizioso in cui alla fine non si capisce cosa faccia peggio se il male o la cura in questo caso invece aiutandosi come un integratore naturale almeno si riesce un attimino a gestire la faccenda il bello di questo consorzio è che la ricerca e il prodotto che salta fuori non è un prodotto nato per creare uno sviluppo economico cioè non c'è un marchio un brand dietro che deve generare un profitto cioè il consorzio è di tutte le farmacie quindi sono le farmacie stesse che fanno i prodotti per loro quindi diciamo il guadagno se così lo possiamo definire è già insito nella vendita stessa non c'è un qualcuno alle spalle come i grossi marchi le grosse multinazionali per cui spesso e volentieri riusciamo ad avere veramente i prodotti molto molto buoni dal punto di vista qualitativo anche perché la ricerca delle materie prime mettendoci il nostro nome e la nostra faccia è assolutamente orientata alla massima qualità però anche il rapporto qualità-prezzo è estremamente interessante proprio perché non c'è dietro un nome non ci sono dei soci dei titolari che devono guadagnare da quel prodotto questo è un po' un rapporto diretto ecco noi già da qualche tempo che stiamo utilizzando questi prodotti devo dire che anche la nostra clientela è molto contenta si trovano bene si trovano bene ecco la farmacia scherponi e Gianluca e Sara hanno lavorato molto su questo è anche di una concezione estremamente innovativa noi ci siamo stati con le nostre telecamere dentro qualcuno forse si ricorda gli approfondimenti che abbiamo girato l'anno scorso e proprio concettualmente avete cercato di rivoluzionare un po' la classica disposizione dei prodotti avete lavorato molto su alcuni aspetti proprio anche ergonomici e degli spazi avete lavorato anche su questo questo vi ha permesso attraverso questo lavoro un po' concettuale di presentare tanti servizi tanti test tante possibilità per il paziente e i vostri clienti perché la prevenzione passa anche dalla diagnostica o dal servizio che si può offrire in farmacia infatti dal semplice esame che possono essere quelli dell'autoanalisi del sangue da cui è possibile avere un profilo lipidico o comunque un indice di glicemia noi passiamo anche a veri e propri test sul DNA per la predizione della propensione delle persone da determinate malattie oppure anche test ormonali che invece vanno a valutare per esempio uno stato di stress del fisico anche lo stato di forma poi possono valutare e quindi andiamo su più fronti andiamo riusciamo ad agire a vari livelli della prevenzione e anche della diagnosi diagnostica anche il semplice semplice poi si fa per dire semplice test dell'intolleranza alimentare che tanto affliggono le persone perché poi è anche vero che noi diciamo sempre che una buona prevenzione nasce anche dal fatto che uno deve mantenere un adeguato stile di vita a volte diciamo si è bene mangiare ma è anche giusto se dobbiamo mangiare cerchiamo di mangiare bene insomma e cerchiamo di evitare quello che ci può dare dare fastidio andiamo a cercare quello che sarebbe opportuno non non mangiare o lasciare lì anche se anche se ci piace perché ci dà delle problematiche e quindi sì abbiamo questi test sull'intolleranza ma abbiamo anche apparecchiature di tipo vabbè parte la misurazione della pressione insomma andiamo poi anche nell'ambito cardiovascolare dove abbiamo investito anche in maniera maggiore perché diciamo il rischio cardiovascolare è quello tra le maggiori cause di morte purtroppo in Italia quindi se da una parte misuriamo la pressione ma anche abbiamo un apparecchio che può valutare anche la fibrillazione atriale quindi un altro rischio di morte o di ictus abbiamo anche preso per fare l'elettrocardiogramma quindi noi facciamo l'elettrocardiogramma con referto nel giro di 15 30 minuti in telemedicina proprio con un cardiologo è proprio di questi ultimi giorni che abbiamo anche inserito l'olter cardiaco quindi può venire da voi per fare un l'olter si riusciamo anche a fare questa e anche qui c'è valutazione telemetrica si sempre un servizio di telemedicina e viene dato proprio il referto anche l'olter pressorio questo già avevamo parlato oramai non può esistere l'elettromedicale che non sia in qualche maniera collegato a un computer ecco ormai il passo successivo collegare il computer a internet quindi l'elettromedicale collegato a internet fa sì che questo nel nostro parco di attrezzi su cui stiamo investendo praticamente ogni nostra macchina come fa la rilevazione dei dati che sono cardiaci pressori piuttosto che in poche parole li invia in automatico a un ospedale da qualche parte in Italia dove c'è il medico che li riceve li legge fa il referto e ci manda il referto via mail in tempo quasi reale quindi oramai abbiamo raggiunto anche qui sì diciamo che la frontiera della telemedicina è la nuova frontiera non è più il paziente a spostarsi ma è la medicina il reparto che vanno quando è possibile a casa del paziente con guadagno su diversi livelli più di 50 test comunque sono possibili nella vostra farmacia dal appunto vi ho detto analisi delle urine test autoanalisi del sangue test del DNA e profili lipidici sono alla fine streptococco allergie quasi tutti immediate allergie al pelo del cane al pelo del gatto appunto testulenzoleranza cioè alla fine viene fuori un pannello di 50 e più test che si possono fare che si possano effettuare insomma è un'occasione anche visto che la farmacia forse dopo l'ambulatorio del medico l'ambiente in ambito di sanità più frequentato per svariati motivi razionalizzare anche il tempo venire da voi e fare contemporaneamente più cose magari può essere sicuramente un risparmio in termini di tempo ma anche economici ci sono nuove frontiere e qui entrano in gioco le dolci presenze che sono accanto a Sara che sono comunque questo ve lo dico anche a vostro uso e consumo che ci state ascoltando sono le operatrici che troverete nella farmacia oltre a Sara lui sta è relegato nello sgabuzzino tu sei il più brutto se sei nel sottoscala che lavori chino sotto tonnellate di carta tu fai il lavoro invece loro sono quelle che sono nel front office quindi insomma le troverete a vostra disposizione allora Sara tu hai un settore particolare nel quale ti occupi e quindi come diceva Sara diciamo tra le novità che sono state recentemente introdotte c'è anche l'olter cardiaco o ecg dinamico si tratta di un esame diagnostico assolutamente indolore quindi non provoca nessun tipo di disturbo che viene effettuato per valutare l'attività elettrica del cuore quindi per valutare viene molto spesso richiesto da medici da specialisti nel momento in cui si presentano dei sintomi che possono essere correlabili alla presenza ad esempio di arietmie si tratta di un apparecchio che noi affidiamo al paziente il paziente avrà addosso sul torace una serie di elettrodi collegati a questo apparecchio pile che viene affidato per 24 ore al paziente questo apparecchio nell'arco delle 24 ore registrerà qualsiasi tipo di attività che il cuore effettua nell'arco della giornata quindi il paziente potrà continuare la sua normale attività senza modificare in alcun modo diciamo la sua giornata al termine delle 24 ore si riporta in farmacia questo apparecchio noi provvediamo a recuperare tutti i dati che sono stati registrati e ad inviarli come diceva appunto Gianluca tramite internet ad un centro medico specializzato nel quale poi un cardiologo perché ovviamente trattandosi di un problema a livello del cuore deve essere il cardiologo a valutare tutti questi dati provvederà a controllarli e a refertarli tramite mail poi ci rimanderà il referto che noi passeremo al paziente così che poi possa valutarlo insieme al proprio medico e in linea di massima questo esame richiede 24 ore di registrazione e nell'arco di 24-48 ore ci viene rimandata la risposta dal cardiologo questo tipo di ECG appunto dinamico si affianca sempre come diceva Sara all'ECG classico che ormai abbiamo da tempo in farmacia che molto viene utilizzato perché è diventato indispensabile anche per il semplice certificato medico per l'attività sportiva quindi diventa uno strumento molto molto importante anche per una valutazione da parte del medico di base anche nell'età più giovane anche per i bambini e queste sono un pochettino diciamo le novità che ci sono sul campo del sistema cardiaco per quel che riguarda invece tutto il pannello di esami di test che è possibile effettuare in farmacia un altro che è stato introdotto recentemente è un esame che valuta le allergie all'epitelio al pelo del cane e del gatto quindi due animali di compagnia abbastanza comuni che a volte purtroppo però possono esatto possono dare anche problemi di solito l'allergia a questo tipo di pelo può provocare disturbi come riniti congiuntiviti problemi a livello respiratorio il test è molto molto semplice perché si tratta di analizzare una piccola quantità di sangue elevata dal polpastrello del paziente tramite un reattivo si va a valutare la presenza di anticorpi di tipo IgE quindi specifici per l'epitelio del cane e del gatto questo strumento ovviamente facilita il medico nel diagnosticare la presenza di un'allergia in conseguenza questo ovviamente poter poi aiutare il paziente nel migliore dei modi anzi proprio a riguardo dell'alter è proprio il caso casomai lo dobbiate fare di non alterare per niente il vostro stile di vita anzi la vostra giornata deve essere esattamente quella che fate tutti i giorni perché se vi mettete sul divano guardate la televisione non fate nessuno sforzo cioè è un po' voi volete fare la stessa cosa che fate normalmente esatto per cui non dovete barare fate quello che dovete fare e poi dopo ci penserà la macchinetta quindi voi lo applicate lo togliete pensate tutto voi esattamente sì sì quindi facciamo un pochettino da interfaccia tra il paziente e il cardiologo che poi si occupa di refertare tutti questi documenti raccolti bene ma insomma nella dinamica paziente utente cliente insomma voi siete propositivi perché giustamente insomma Sara lui è insomma insomma il braccio tu sei la mente insomma vi scambiate le idee però voglio dire il rapporto con discutiamone discutiamone parliamone discutiamo spesso va bene non voglio entrare nelle vostre danze fate quello che fate una cosa che mi interessava visto anche il pregresso la storia della tua famiglia della farmacia su San Costanzo penso che ormai le persone con le quali voi quotidianamente avete un rapporto siano persone con le quali si instaura anche quasi un rapporto diciamo di conoscenza di affiliazione quindi vi viene anche un po' spontaneo proporre conoscendo la storia anche della salute del cliente qualche cosa di innovativo che voi avete a disposizione cerchiamo sempre di dare il consiglio giusto alla persona insomma cerchiamo proprio di offrire una risposta personalizzata a quello che ci viene richiesto proprio perché la maggior parte della gente la conosciamo insomma sappiamo cosa prende cosa non prende quindi riusciamo in questo anche meglio a formulare una proposta appropriata quando ci sono le novità le proponete giustamente bene altre novità ce ne parla Francesca che invece è più spostata su un altro fronte quello insomma che forse in questo periodo è un po' più attuale la lotta alla streptococco lancia in resta abbiamo introdotto questo test che diciamo ha preso piede perché è un test che va a rilevare appunto l'antigene dello streptococco che sappiamo benissimo è la causa principale di alcune patologie che in questo periodo sono comuni quindi faringiti malattie da raffreddamento e anche patologie molto più importanti tra cui in petigine e via dicendo quindi la tempestività diciamo a rilevare questo battere che crea appunto queste patologie è molto semplice si esegue attraverso un tappone faringeo viene messo a contatto con dei reagenti quindi positività e negatività e quindi l'intervento veloce del medico con terapie antibiotiche o quant'altro questo è uno un altro molto interessante in questo periodo sono un test per le droghe d'abuso è un test che viene eseguito semplicemente attraverso un campione dell'urina da parte del paziente con alcune piccole raccomandazioni che poi al momento vengono date e va a valutare in maniera simultanea la positività o la negatività a sette droghe d'abuso tra cui abbiamo le anfetamine le metanfetamine cannabinoidi ecstasi cocaina eroina e oppiacei quindi molto importante in questo momento anche questo test non ultimo le licobatter pilori che purtroppo in questo momento si fa sentire nei cambi della stagione molto frequente è un battere che sappiamo benissimo colonizza le mucose dello stomaco a volte asintomatico a volte dà proprio ulcere gastriti e via dicendo questo è già un test un pochino più elaborato nel senso che si richiede al paziente la raccolta di due espirati quindi il paziente si troverà a respirare all'interno di una provetta una vuota e una invece dopo che avrà assunto una soluzione diurea marcata quindi poi verrà spedito in questo caso al laboratorio viene eseguito in laboratorio e attraverso questa marcatura con questa soluzione riusciranno a capire se c'è una produzione di anidide carbonica dovuta appunto dalla presenza di questo battere e quindi anche qui si parla di tempestività nella cura e nel diciamo trattare questo tipo di problema molto molto comune si poi dopo si passa all'eradicazione quindi dopo la terapia il breath test si chiama vero questo micene è vero è il breath test si è una sorta più o meno comunque la dinamica è quella alla fine si soffia dentro si soffia dentro bene quindi insomma più campi di azione più insomma zone del nostro apparato insomma del nostro organismo vengono interessate dai vostri dai vostri test forse quelli più più comuni più insomma più frequenti ovvio che in farmacia non è possibile fare tutto diciamo quello che si può fare attraverso reagenti o elettromedicali viene ampiamente preso in esame considerato per tutto il resto così come si parla prima dei profili ormonali le intoleranze questi altri esami tra i vari giri che facciamo andiamo a cercare anche questi laboratori adeguati e strutturati per operare con prelievi all'esterno e quindi cerchiamo di mettere in alto tutta una serie di collaborazioni per avere più possibilità di offrire la clientela quindi anche quelli che sono i test che vanno per forza necessariamente fatti in laboratorio vengono fatti attraverso l'invio dei campioni prelevati verso la farmacia in questi laboratori specializzati e a seconda del tipo di test noi abbiamo più laboratori con i quali collaboriamo per la valutazione di questi quindi è un'altra cosa che ci fa piacere perché grazie a queste collaborazioni riusciamo a dare un panel di servizi più ampio di quello che altrimenti potremmo offrire potrete offrire bene allora in chiusura se Sara mi vuoi annunciare qualche iniziativa visto che voi siete così social così aperti una farmacia così comunicativa la vostra avete qualche iniziative ne facciamo ogni tanto aderiamo adesso mi viene in mente questo perché praticamente avverrà adesso il 14 novembre in occasione della giornata mondiale del diabete anche la nostra farmacia ha aderito quindi in associazione con naturalmente diabete Italia e a livello regionale con Federpharma Marche abbiamo comunque aderito siamo una delle farmacie in cui faremo la la misurazione gratuita della glicemia e quindi aiuteremo alla prevenzione di questa di questa malattia che se è presa in tempo può essere insomma risolta e non portare a però giustamente se uno non viene a misurare siamo in test e quel passettino non si riesce a diagnosticare quindi è un un invito alla prevenzione diciamo allora quindi se non siete mai capitati nella farmacia Scarponi potrebbe essere un'idea un'opportunità questa qui e quindi vedrete da vicino non solo loro ma anche proprio la loro disposizione la loro concezione di farmacia il tempo è sempre tiranno soprattutto quando le argomentazioni sono sono molto interessanti e corpose e quindi insomma una cosa vedi anch'io frutti di stagione Francesca vengo da te a fare il test hai visto mai che scappa fuori uno streppococco così un po' selvaggio è vero uno streppococco ribelle allora una cosa che mi piaceva sottolineare l'abbiamo detta l'altra volta proprio per questa funzione così di voler condividere con la comunità anche la concezione della prevenzione e soprattutto anche del supporto alla cittadinanza loro la farmacia Scarponi ha al di fuori della farmacia un defibrillatore a disposizione di chi ne ha bisogno sperando che non serva mai sperando però notte e giorno è open è aperto cioè nel qual caso che questo la dice un po' lunga sulla filosofia sull'approccio anche che che avete voluto dare è un regalo che abbiamo voluto che abbiamo voluto fare al paese d'accordo con Sara sono tanti anni il paese diciamo ci dà fiducia ci supporta sappiamo che c'è c'è un rapporto molto bello con quel paese quest'estate abbiamo voluto riconfermarlo con la tavolata cioè quindi è così un qualcosa qui ci tenevamo anche particolarmente è sempre stato un nostro pallino da tempo non si tratta di investimenti impossibili ovviamente allora abbiamo preso questo defibrillatore lo abbiamo messo di fianco alla porta d'ingresso della farmacia e lì chiuso in una tecca allarmata sotto video sorveglianza perché i malintenzionati bisogna in qualche maniera comunque scoraggiarli è registrato presso il 118 per cui anche il 118 dovesse averne bisogno in un caso simile hanno una mappa di tutti quelli che sono i defibrillatori automatici sparsi nelle loro aree di competenza quindi sanno che lì laddove dovesse servire lo prendono lo usano e speriamo che faccia il suo dovere insomma bene sicuramente sicuramente sì noi speriamo che stia lì che faccia le ragnatele perché vuol dire che nessuno ne ha avuto bisogno bene allora grazie agli amici della farmacia Scarponi che sono stati qui hanno presentato la loro come dire filosofia commerciale ma anche di insomma di prevenzione verso alcune patologie e i nuovi servizi grazie a Gianluca Gabanini conterraneo e quindi c'era questo feeling questa esce questa difettosità romagnola questa esce un po' così va bene grazie a lui è amministratore insomma colui che mette in pratica tante cose nella farmacia Sara Scarponi titolare nonché rampollo della dinastia di farmacisti Beatrice Brunetti e Francesca Longhini le farmaciste che troverete all'interno della farmacia che vi potranno consigliare e orientare attraverso tutti questi questa miriade di possibilità che avete di test sotto test e indagini diagnostiche che loro vi offrono bene grazie per la vostra attenzione questa puntata di dopo cena termina qui non mi rimane altro che augurarvi alle prossime puntate se la volete rivedere come tutte le altre puntate c'è nel nostro sito potete andare anche su youtube potete anche iscriverci qualcuno lo sa altri no noi abbiamo un indirizzo mail dopo cena chiocciolafanotv.it quindi se volete mandarci dei suggerimenti se volete parlare con noi attraverso questo canale lo potete fare bene grazie e alle prossime ciao arrivederci Grazie a tutti.